ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video positive abd come sempre io sono domenico ho cercato un posto un po più appartato e almeno con una bella visuale anche all'ombra perché oggi fa caldissimo 22 maggio fa caldissimo a torino questo è il po se non si fosse capito ok faccio un altro video così questa volta parlo della dieta più che altro un'osservazione che mi è venuta ultimamente che praticamente spero si senda c'è un po di vento perché praticamente io nella nella mia alimentazione mi capita di fare due tipologie di sgarri ok per parlare diciamo delle tipologie di sgarri iniziamo col dire che seguo quindi una dieta ovviamente penso che già lo sapete se mi seguite appunto per le abd altrimenti ve lo dico ho cambiato diverse diete nel corso del tempo adesso ho trovato una nutrizionista che secondo me è più brava rispetto a quelle di prima sosseguendo una dieta con un protocollo per appunto le malattie autoimmuni quindi valida sia per lei bd sia per altre malattie autoimmuni in pratica in questo protocollo ci sono determinati alimenti che non devo mangiare ad esempio determinate sostanze ad esempio il lattosio ad esempio il glutine e anche altre che non ricordo poi tutto indicato sulla dieta diciamo le cose che posso mangiare quindi per esempio a livello di carboidrati posso mangiare il riso e le patate ok non la pasta perché c'è il glutine non il pane ok quindi fatto questo preambolo forse avete già capito i tipi di sgarri che mi capita di fare diciamo che ci sono due tipologie il primo è quando faccio uno sgarro di questo tipo cioè non seguo il protocollo della mia dieta per le malattie autoimmuni ma ad esempio mangio la pasta o mangio il pane quindi è uno sgarro che a livello di macronutrienti non non è sbagliato cioè seguo comunque le quantità giuste però mangio una cosa che potrebbe darmi fastidio solo a me quindi una persona normale quel tipo quella tipologia di passo l'avrebbe potuta fare normalmente rientrando nella normale dieta io no e quindi questa è la prima tipologia di sgarro seconda tipologia è quella normale che fanno anche tutti di cui ne ho un pasto a settimana non un giorno ma un pasto perché diciamo che la mia dieta viene vista quasi come una medicina cioè deve essere eseguita al meglio possibile così diciamo si possono vedere anche dei risultati o almeno nel mio caso è stato così seguendo la meglio la seguo più la seguo più sto bene quindi secondo sgarro che ne ho uno a settimana un pasto a settimana e quello dove praticamente mangio cosa voglio la quantità che voglio eccetera ovviamente questo tipo di sgarro lo faccio solo quando sto benissimo cioè questa poi è una mia scelta personale faccio questo tipo di sgarro quando c'è quando c'è il giorno diciamo quando decido il giorno in cui mangiare un po quello che voglio quindi che ne so la pizza il dolce antipasti quindi frittura eccetera lo faccio se sto effettivamente bene perché se capita che sto male non lo faccio mentre gli altri tipologi di sgarro le faccio ogni tanto durante la settimana quando arriva un giorno che ne so che ho voglia di pasta me la mangio tendenzialmente mangio sempre un riso o patate però vado a fare questo ho parlato maggiormente di carboidrati perché altre tipologie di sgarri non ne faccio per esempio il latte non lo sto bevendo però non mi manca quindi meglio così ogni tanto ad esempio invece di farmi sempre la fettina di carne cotta sulla piastra o senza niente ci metto un po di impanatura intorno quindi un po di pangrattato che sarebbe pane che in teoria non posso mangiare però diciamo queste sono la maggior parte gli sgarri che faccio dalla mia dieta per le malattie autoimmuni. Niente ne volevo fare questo video ricordatevi di iscrivere di lasciare un commento eccetera eccetera fatemi sapere se vi piacciono di più questi video diciamo dove trovo una location con la natura oppure se vi piacciono di più i video che faccio a casa secondo me sono più belli questi e noi ci vediamo in un prossimo video